Vediamo con questo gioco caruccio cosa devo fare. Non è che sono molto esperto, perché questo è più un gioco per bambini, però... Vediamo. Ah beh. Vediamo un po' se riesco a fare qualcosa. Ehm, ma è carino però. Un bel sette e mezzo glielo do, eh. Non capisco cosa devo fare qua. Ah, ulla, si è gonfiato. Bellissimo sto Kirby qua, eh. Spettacolare game, Sle game. Oh yeah. Beh, venite amici, andiamo. Iscrivetevi al mio canale, mettete un bel like, subscribe, un bel mi piace. Ah beh, deve mangiare i nemici. Praticamente, andiamo. Ah beh, non è male, non è male, non è male. Very good, very good. Very good. Andiamo, andiamo, andiamo. Se uno guarda l'altro, guardo. Oh yeah, spettacolare game. Excellent game. Andiamo, andiamo. Grazie a tutti.